Le iscrizioni dei bambini al primo e secondo circolo di Città di Castello seguono la media nazionale a fare un primo e parziale bilancio dell'andamento delle iscrizioni e il dirigente scolastico di Città di Castello, il dottor Simone Casucci, anche se ovviamente un'analisi precisa e dettagliata potrà essere realizzata solamente dopo le virtuali ed opportune verifiche da parte dell'ufficio scolastico regionale che ne terminerà a metà mese. Intanto c'è da registrare come le iscrizioni seguono appunto la media nazionale, ovvero tendano a calare per via della minore natalità in Italia, ma questo non è un mistero. Quello che invece colpisce molto è che nelle due classi al centro della rimodulazione di orario, ovvero Latina e Rignaldello, non c'è stata nessuna variazione, ovvero tutti i genitori hanno accettato il cambio, come aveva già detto lo stesso dirigente durante la commissione consigliare, nella quale aveva specificato che le iscrizioni all'anno scolastico 2023-2024, aveva detto Casucci durante l'intervento, hanno testimoniato il gradimento delle famiglie per la nuova disciplina oraria. Così da settembre ci sarà questo nuovo orario, non più sei giorni di lezione settimanale al mattino, dall'undì al sabato, dalle otto e dieci, dalle dodici e quaranta, ma cinque giorni, dal lunedì al venerdì, dalle otto alle tredici e con due rientri pomeridiani.